Musica Claudio Pedrotti oggi nella doppia veste di sindaco e presidente della provincia di Pordenone ha aperto e salutato il diciannovesimo corso di geopolitica oggi in presenza di un generale, il generale Polli e di un grande costituzionalista, il professor Giuseppe De Vergottini. Sì, questo ha aumentato l'importanza e il fascino dell'evento, ma come ho sottolineato nel mio breve saluto in realtà non è l'evento di questa sera, è questa serie di incontri che, visto che il titolo e i temi riguardano sicuramente il dopo Parigi sono già stati costruiti da tempo, ma insomma sono stati adattati rapidamente ad un sentire, ad un momento di grande riflessione di grande attenzione delle nostre comunità, di Pordenone e della sua provincia. Con l'interrogativo di dove siamo in questa geopolitica che ci circonda, siamo nelle retrovie, tranquilli o siamo al fronte? No, perché è questo il messaggio che a volte ci viene passato. Le sessioni, le testimonianze che ci verranno date, secondo me devono arricchire proprio il nostro pensiero sia come cittadini che come politici e darci un'indicazione di come proseguire in questa attenzione, in questo ascolto che ci deve caratterizzare in un periodo storico così complesso. Sia per come le nostre comunità si sono trasformate sia per la vicinanza alla Libia di fronte a noi, insomma, non è che occorre andare tanto lontano. Quindi un plauso, sempre benvenuti, sempre quanto mai attuali, diciamo al pezzo per usare un tipico modo di dire chissà al prossimo anno che cosa ci riserva, visto la rapidità con cui le cose accadono, ma anche le nostre aspettative. Quindi un grande plauso al solito per chi organizza questi eventi, ma anche al solito una grande attesa per come poi il filo conduttore del racconto verrà svolto. Noi la ringraziamo invece per l'ospitalità che ci ha dato. Beh, l'ospitalità è dovuta, quindi è un piacere penso per la provincia e per la città. Già ampiamente sottolineato negli scorsi anni, ma forse quest'anno ancora di più, proprio perché con la duplice veste ho anche la possibilità di esprimerlo con questo calore, con questa vicinanza. Siamo alla prima lezione del diciannovesimo corso di geopolitica organizzato dai Storie Limes Club qui a Pordenone e siamo in compagnia del professor Giuseppe De Vergottini dell'Università di Bologna e presidente di coordinamento adriatico, che è venuto qui a Pordenone per un incontro sulle forze armate, crisi internazionale e ordinamento italiano. Il professor Giuseppe De Vergottini merita una presentazione un po' più consistente professore merito di diritto costituzionale nella facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna presidente onorario dell'International Association of Constitutional Law di cui è anche componente del comitato esecutivo è stato membro del consiglio direttivo dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti per tre mandati di cui è stato anche socio fondatore membro dell'Accademia delle Scienze di Bologna è già presidente della classe di Scienze Morali e vicepresidente della stessa Accademia l'elenco andrebbe in realtà molto avanti mi soffermerei su alcuni dati lui è anche direttore responsabile della rivista percorsi costituzionali edita dalla Fondazione Magna Carta fa parte dei comitati di direzione e redazione poi anche di numerose riviste è autore di numerosi volumi e pubblicazioni su argomento ovviamente di diritto dell'economia pubblica di diritto comunitario comparato sui problemi giuridici della difesa e della politica estera sul ruolo dell'opposizione parlamentare sull'ordinamento regionale e via dicendo tra l'altro pubblicato diritto costituzionale ottava edizione del 2012 diritto costituzionale comparato non edizione del 2013 passiamo alle domande adesso facciamo parlare il professore in passato ad ogni missione di pace delle nostre forze armate si verificava una certa opposizione fondata sul ripudio della guerra di cui l'articolo 11 della Costituzione oggi pare che le missioni siano accettate dal punto di vista giuridico costituzionale bene, argomenti in effetti un argomento di grande importanza io comincerei col dire che è vero che il punto di partenza cioè uno dei punti di partenza è proprio l'articolo 11 sul rifiuto della guerra che è una norma costituzionale molto conosciuta che è indice della vocazione pacifista del nostro ordinamento però questa norma va inquadrata in un complesso storico-politico molto più ampio perché se ci pensiamo un attimo in realtà il nostro ordinamento è inserito nell'ambito delle Nazioni Unite quindi le Nazioni Unite l'ordinamento prevede la possibilità per esempio il caso più semplice della guerra difensiva quindi il problema è questa norma la finalità soprattutto di vietare l'uso dello strumento bellico per scopi aggressivi quindi una norma che è stata adottata a suo tempo dall'Assemblea Costituente in polemica con la politica diciamo espansiva del periodo fascista non solo la guerra difensiva ma da tempo ormai si ammette quella che si chiama la guerra umanitaria che è un concetto se volete anche un po' ambiguo difficile da definire ma che si è affermato nel tempo quindi oggi direi partirei da una considerazione molto semplice se veramente come in modo se volete un po' estremistico si sostiene la guerra è assolutamente vietata la cosa più semplice per i nostri costituenti sarebbe avere inserito in Costituzione un principio di neutralità neutralità permanente come in qualche altro ordinamento quindi nessuno vietava di mettere un divieto radicale cosa che non si è fatta proprio perché l'Italia voleva in quel momento inserirsi negli anni 40 inserirsi nell'ordinamento delle Nazioni Unite per cui in realtà si è accettato questo principio della guerra difensiva ed eventualmente della guerra umanitaria comunque è vero che le missioni danno arido dei problemi io partirei dalla considerazione che in realtà le missioni in Costituzione non sono previste cioè il nostro ordinamento stranamente è rimasto indietro dal punto di vista storico perché di guerra in senso classico come se ne parlava in passato in realtà oggi non se ne parla più perché si parla di conflitti armati che è un modo se volete un po' ipocrita di velare spesso situazioni di conflitto bellico effettivo sotto l'etichetta del conflitto armato però in realtà le missioni e questi per scopi soprattutto umanitari pensiamo al Kosovo pensiamo al Libano e tante un'infinità veramente sono decine e decine di missioni a cui noi partecipiamo praticamente soprattutto in riferimento al fatto che si svolgono nel quadro di accordi internazionali sulleggi dalle Nazioni Unite sono praticamente ormai accettate quindi il problema è che manca una normativa specifica sull'invio dei corpi armati all'estero cioè si usa ancora la vecchia normativa sulla guerra che nessuno più utilizza perché nessuno più utilizza il ricorso ai deliberi di dichiarazioni di guerra però non c'è una norma specifica sull'invio dei corpi armati all'estero e questo pone dei problemi in apoi da pratico certo però l'ordinamento italiano si è stabilizzato abbastanza in materia cioè ci sono dei decreti che autorizzano semestralmente le missioni internazionali vengono disciplinati i principali aspetti della missione la dotazione finanziaria la donazione di mezzi allo stato ospitante il trattamento del personale sì questo è verissimo ma questo è perché si è dato appunto per scontato che con la copertura dell'articolo 11 e poi con tutta una serie di interventi legislativi che prevedono proprio l'utilizzo dello strumento militare perché intendiamo ci sono anche missioni che non comportano l'uso dello strumento militare però quelle di cui parliamo adesso praticamente si sono consolidate nel tempo perché vedete una cosa interessante è che a prescindere dai governi a prescindere dalle opzioni politiche di fondo cioè governi se volete di centro-destra di centro-sinistra c'è una linea di continuità nella politica italiana che è stata quella di volere essere inseriti di mantenere un inserimento costante negli interventi diciamo della politica internazionale soprattutto nell'area del Mediterraneo ma non solo in quella perché noi abbiamo delle missioni che vanno pensiamo all'Afghanistan pensiamo all'Ira pensiamo al Kuwait cioè praticamente anche al di là proprio perché c'è questa specie di principio costituzionale di non isolamento della politica estera italiana nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni come l'Ana che in qualche modo sono collegate alle Nazioni Unite comunque noi abbiamo una fitta rete di interventi legislativi che disciplinano le missioni non abbiamo una legge quadro sulle missioni come da tempo si dice stati fatti i vari tentativi nei due passati di legislatura senza successo quindi abbiamo in genere delle enormi separati abilitanti in generale e poi come lei ricordava abbiamo dei interventi soprattutto per quanto riguarda il finanziamento delle missioni che sono interventi che avrebbero dovuto essere annuali in realtà oggi sono qualche volta sono state addirittura trimestrali oggi sono interventi semestrali e sono presi con decreti legge che servono a finanziare le missioni con l'occasione ci sono poi chiaramente le normative veramente autorizzanti che sono quelle in cui il governo chiede al Parlamento che con proprie risoluzioni mozioni risoluzioni o a livello di commissioni parlamentari o addirittura in certi casi a livello assemblea autorizza l'invio dei corpi armati all'estero senta lei ha prestato attenzione anche alla problematica delle cosiddette regole di ingaggio in un convegno di qualche anno fa al comando delle forze operative dell'esercito italiano in che cosa consistono dunque queste regole di ingaggio è una domanda molto interessante perché è una sono diciamo in realtà se dovessimo usare un termine semplice diciamo sono delle direttive che riguardano il modo attraverso cui i nostri corpi armati mandati all'estero possono intervenire quindi sono diciamo criteri sia che relativi a dei divieti per esempio il divieto di usare degli strumenti pregiudizievoli per la popolazione civile quindi riguardano soprattutto l'uso di impiego della forza armata oppure quindi sono norme di divieto norme di abilitazione a fare qualcosa in pratica sono le direttive che vengono stabilite dallo Stato Maggiore che è d'accordo con il Ministro della Difesa quasi sempre sono prese sono diciamo specificative di regole quadro che sono adottate nell'ambito di organizzazioni internazionali quindi Nazioni Unite per noi la Nato per noi l'Unione Europea per noi e anche altre organizzazioni quindi queste organizzazioni internazionali hanno delle specie di normative quadro per le regole di ingaggio che siccome le nostre sono sempre state tranne un caso come sempre state missioni inquadrate in accordi internazionali quindi i nostri corpi armati mandati all'estero lo sono insieme ad altri per cui le normative di quadro sono stabilite all'esterno del nostro ordinamento noi le recepiamo le specifichiamo con dei caveat cioè con delle come dire delle precisazioni specificative per i nostri militari perché per esempio le regole di ingaggio che usano gli americani sono terribilmente più come dire più permissive per quanto riguarda l'uso della forza delle nostre quindi quello che sul terreno può fare un militare di un altro paese non ci riguarda ma è diverso da quello che facciamo noi noi in genere diamo delle regole di ingaggio molto attente al fatto che si rispetti diritto umanitario per esempio si rispettano le convenzioni internazionali sulla protezione delle persone dei singoli dei civili coinvolti dei feriti dei prigionieri quindi noi siamo molto più garantisti almeno da questo punto di vista quindi in realtà tornando alla domanda iniziale il rego e l'ingaggio sono praticamente delle direttive degli indirizzi di comportamento che vengono stabiliti a livello amministrativo dall'apparato militare cioè dal capo di stato maggiore d'accordo con il ministro della difesa e che vengono poi fatte discendere sul terreno diciamo ai corpi e ai comandanti che hanno responsabilità delle unità operative nei territori di riferimento generale generale Fabio Polli comandante della 132esima brigata corazzata a Riete è stato comandante del sector west presso la base di Shama in Libano e quindi ha guidato il contingente italiano nella recente missione Unifil oggi è qui per il 19esimo corso di geopolitica qui a Pordenone per una relazione stabilità nell'instabile Medio Oriente Unifil e la Blue Line Generale la recente missione della Riete è avvenuta appunto in un contesto particolare io ci sono stata due anni fa era più tranquillo l'ambiente adesso è un contesto invece più instabile c'è la Siria in guerra sono ripresi gli scontri tra Israele e la fascia di Gaza Guardi lei è centrata esattamente nell'argomento perché facendo un bilancio della missione anche con i dipendenti ci siamo detti tutti che in realtà noi abbiamo trovato due missioni in una una parte iniziale quindi quella risalente più o meno fino al mese di giugno noi siamo andati ad aprile dell'anno scorso dove abbiamo trovato una stabile instabilità come ha sottolineato lei ovvero un Libano abituato a gestire la crisi siriana abituato in qualche modo a conviverci da quel momento in avanti cioè da giugno del 2014 in avanti abbiamo vissuto una seconda fase con il surge del cosiddetto Stato Islamico che ha portato una ventata di forte instabilità e ha forse anche innescato in qualche modo la successiva crisi di Gaza quindi ci siamo trovati in una situazione sicuramente più difficile da gestire per la quale tutto sommato però eravamo preparati in realtà le posso dire che all'interno dell'area in cui abbiamo operato la stabilità è comunque rimasta anche se abbiamo percepito anche tra la popolazione dei segni di notevole tensione Senta ci puoi spiegare il mandato Unifil è il vostro compito per la Blue Line in un contesto appunto così problematico Ma il compito di Unifil risale poi alla risoluzione 1701 del 2006 quindi fondamentalmente lo risumiamo quindi in tre parole quindi monitorizzare la cessazione delle ostilità tra Libano e Israele supportare il Libano come governo e come istituzioni e assistere la popolazione civile quindi vediamo fin da subito che è una missione ad ampio spettro perché si parte dal livello puramente militare sul terreno per arrivare addirittura a un contatto continuo con le istituzioni che normalmente viene fatto a livello Unifil e quindi Force Commander Il primo punto forse è quello che è risultato più difficoltoso o delicato in questo periodo? Delicato sicuramente però dobbiamo sottolineare che la missione di Unifil la seconda missione di Unifil quella che viene detta Unifil 2 cioè quella in nato dal 2006 in avanti ovvero dopo la 17.01 è di fatto una missione di successo perché dal 2006 abbiamo avuto il maggior periodo di stabilità rispetto ai periodi precedenti è vero che nella nostra concezione europea sembra instabile perché ci sono continui scambi di fuoco anche tra i due stati ce ne sono stati appunto molto spesso ma non c'è più stata quella stagione di invasioni reciproche di incursioni reciproche che in effetti sono quelle che contribuiscono a mantenere una certa calma Senta ci parla si parla di una particolare caratteristica dei nostri contingenti nel farsi voler bene dalle popolazioni locali io ho toccato con mano due anni fa quando sono andata le cure le medicine che distribuite a chi non è curato e non ha possibilità di essere curato ci sono due livelli che sono molto importanti per il contingente italiano uno che è intrinseco al nostro essere italiani quindi è l'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti della popolazione che è un atteggiamento aperto senza riserve e viene capita questa nostra apertura si capisce che l'impegno italiano è normalmente un impegno che non ha secondi fini quindi questo ci aiuta moltissimo poi c'è un secondo piano di sostegno che ha il sistema Italia nei confronti della missione libanese l'Italia è oggi il paese contributore nell'ambito della missione libanese che spende di più in quanto ad aiuti umanitari ed assistenza della popolazione questo logicamente unito all'altro fattore che l'ho detto prima ci dà un successo che veramente non è paragonabile a quello di alcuno degli altri stati contributori